Ciao carissimi, una pubblicazione molto prestigiosa statunitense The Hill, una pubblicazione, articoli della quale io qualche volta pubblico, traducco sul mio canale privato Telegram, tra l'altro se non siete ancora abbonati vi invito di farlo, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione di questo video. The Hill pubblica molti articoli interessanti, soprattutto pubblica le riflessioni, le analisi di vari esperti di geopolitica, di economia, qualche volta passa qualche interessante esperto nell'ambiente bellico, qualche colonnello, qualche generale statunitense, è importante che si tratta di una pubblicazione sicuramente fuori dagli ambienti che possono essere definiti pro-putiniani, non è una propaganda russa, non è gazzetta di Cremlino, si tratta di una prestigiosa testata statunitense. ovviamente è molto importante quando su questa testata, su testate del genere, appaiono le voci che in qualche modo riportano il nostro ragionamento verso dei binari di realtà oggettiva, ci allontanano a quelle prospettive che sono state create da varie propagande. di ricente un professore che si occupa di politica nella scuola internazionale di educazione nello stato Vermont, una Vermont State University, è un'importante università statunitense, questo professore si chiama Bruce Dayton, lui pubblica qualche volta gli articoli su The Hill e anche viene intervistato, ha di ricente condiviso un'opinione in una specie di suo articolo barra riflessione dove lui riflette sull'andamento della geopolitica e in questa sua riflessione in pratica lui sta dicendo quello che ancora due anni fa, tra marzo e aprile del 2022, quasi due anni fa, io cercavo di spiegare in diverse dirette televisive italiane, perché all'epoca si parlava, cari amici, della guerra, la narrazione occidentale era ancora molto becera, si parlava ancora di Putin impazzito che si è sviliato una mattina, non aveva niente da fare, allora ha alzato la cornetta, ha chiamato il suo ministro della difesa, ha detto senti, io mi sento oggi in maniera particolarmente agguerita, perché non invadiamo qualcuno? Abbiamo questa brutale forza militare, non abbiamo più niente da fare, invadiamo questa Ucraina, non mi piace la situazione che succede lì, dai muovi l'esercito, facciamo una guerra. E così in 448 Putin ha deciso di fare la guerra, tutti parlavano di Blitzkrieg, pensando che la strategia dei russi era quella di fare la guerra in 48 ore, poi in realtà non è mai stato così, l'intenzione dei russi primaria era quella di costringere Zelensky a mettersi seduto a tavola dei negoziati, quello che loro poi hanno fatto, hanno raggiunto il loro primo obiettivo, solo che per l'ennesima volta l'Ucraina dalla tavola dei negoziati è stata sollevata per l'orecchio proprio, in maniera brusca, dai partner occidentali e Putin era pronto di fare un ultimo accordo con l'Ucraina, mentre Zelensky è stato portato in Polonia, dove è arrivato il direttore della CIA, c'è stato Boris Johnson, poi è arrivato anche Biden e tutti insieme hanno promesso a Zelensky e Maremonti se lui continuerà a fare la guerra contro la Russia e se lui non farà nessun tipo di accordo con Putin. In effetti Zelensky lo ha fatto, è diventato miliardario, sacrificando le vite degli ucraini, distruggendo l'Ucraina, facendo l'Ucraina perdere un sacco dei territori e perderà gli altri, insomma un totale affallimento. Da noi invece questa cosa si raccontava in maniera totalmente diversa ovviamente, i nostri giornalisti parlavano di cattivo Putin, di un'aggressione immotivata, c'è un aggredito e un aggressore, non ci interessa sapere nessuna logica storica che ha portato a questa guerra, io mi ricordo che ancora all'epoca facevo dibattiti con vari finti esperti che c'erano dei personaggi, sono apparsi questi personaggi che li tirano solo dove li trovano questa gente idiota totalmente che ha una visione di proprio paese, dell'Italia, una visione angosassonecentrica, dico ma voi italiani avete un minimo di rispetto nei confronti di voi stessi, voi che siete comunque derivati da un grande impero, dell'impero romano, voi che avete fatto la storia del mondo, la storia sicuramente del mondo occidentale, che siete la culla di civiltà insieme con la Grecia, della civiltà occidentale, ma non avete amor proprio, ma come fate a mettervi a 90 di fronte alle angosassone, che veramente come quando afferma per scherzo Guzzanti nel suo Fascisti sul Marte, quando da noi succedeva un Giulio Cesare, questi ancora giravano nudi a caccia di marmotte, cioè gli italiani proprio si sono piegati di fronte alle angosassone in maniera più vergognosa, io non riesco a capire perché lo fanno, se c'è qualcuno ancora nel nostro paese che veramente ha al cuore i concetti come la patria, come la dignità, il rispetto per le proprie tradizioni, per le proprie radici, o sono totalmente svenduti piegandosi di fronte a questi colonialisti anglosassoni, proprio come gli schiavi, io non riesco a capire in questo senso molti italiani, che comunque apparivano, questi esperti, questi italiani che portavano avanti la questione anglosassone, mi dicevano che ma no, assolutamente, non ha importanza ciò che è successo nel 2014, qua c'è aggredito l'aggressore, non ha importanza il pericolo di nazifascismo di cui tu parli, non esiste, non esiste nessun pericolo, tutto il problema è che Putin è pazzo, il problema loro era quello, c'è successa una guerra a livello geopolitico in un paese dove la Nato dal 1991 non fa altro che provocare la Russia, dove sono stati massacrati migliaia dei russi, e in questo paese è scoppiata la guerra perché Putin è pazzo, secondo questi esperti. Insomma, io all'epoca, quando parlavo con questi decerebrati, decerebrati e decerebrate, perché questi sono sia uomini che donne, io dicevo, guardate che la cosa più importante adesso, non divulgare questa follia che state facendo voi, Putin pazzo, aggredito aggressore, dobbiamo fornire armi all'Ucraina, io dicevo, ragazzi, fornendo le armi all'Ucraina, contribuiamo soltanto alla vittoria militare sul campo della Russia perché vincerà sicuramente, l'Ucraina perderà i propri territori, le russi prenderanno quello che vogliono, è solo questione di tempo, e massacreranno un sacco di persone. Io, l'ex militare, da uno che la guerra era vista o l'ha fatta, oggi sono un convinto pacifista, ma pacifista non in senso che giro travestito da hippie e mi fumo delle canne, io sono pacifista perché non voglio che si ripeti una guerra, perché secondo me la guerra è la cosa più brutta che esiste, più ignorante, più ingiusta e più inutile dal punto di vista di risoluzione dei problemi, problemi alla fine si risolvono sempre attraverso trattative, tutte le guerre finiscono con le trattative, volete o non volete, prima i politici fanno le loro proclamazioni, poi i potenti attraverso la morte dei poveri cercano di raggiungere dei risultati, alla fine comunque vanno lì, si stringono le mani, mangiano una zuppetta insieme, seduti sui milioni di morti massacrati, dei quali a loro non frega proprio niente, perché qua si tratta di una classe che per i propri interessi fa massacrare l'altra classe. E quindi io, come una persona che ragiona in questo modo, non posso fare altro che invitare tutti a spingere la questione verso le trattative, perché tanto comunque si finirà con le trattative. E mi dicevano, no, ma sei agente di Putin contro di me e contro gli altri, hanno fatto lì in Italia l'indagine parlamentare, il Corriere, gli altri hanno fatto l'articolo dove in prima pagina c'ero io, in mezzo agli altri, ci hanno messo insieme le persone, veramente, va bene io che sono nato in Unione Sovietica, comunque ho la faccia da russo, sono russo, e c'è comunque una minima logica per dire sì, lui è cattivo, agente di Putin, sono russo, se per voi essere russo vuol dire agente di Putin, pensi sono agente di Putin, ma spiegatemi che cavolo c'entra Alessandro Barbero? Cioè questo poveretto che scrive libri di storia, mi diva la lista, un ottimo scienziato, perché lui, finito nella stessa inchiesta con Lillin, come agente di Putin, pure Barbero? E ancora un sacco di altri agenti che non c'entra niente, italiani, giornalisti, solo perché hanno espresso un'opinione che non è piaciuto a questi figli di buona donna. Comunque, io in quel momento dicevo, ragazzi, guardate che per fare la trattativa seria, per fermare questa guerra, bisogna mettere sul campo dei politici, politici o grandi nomi, che possono avere negli occhi di Putin un minimo di autorità. Cioè Putin deve, almeno in parte, sapere che questa gente rappresenta se stessa. E io ho fatto anche più volte due nomi. C'è anche un video mio su YouTube di quell'epoca dove io dicevo, chi secondo me può rappresentare l'Occidente durante trattative con Putin? Chi può dare le garanzie? Io ho detto Merkel e Pontefice, Papà Francesco. Papa Francesco, perché, diciamo, non c'entra niente con tutti i giochi che si fanno attorno all'Ucraina, c'entra però per altre, in altre questioni, però Putin, siccome lui è un rappresentante del Vaticano e ufficialmente non è una figura politica, Putin sicuramente lo accetterà e parlerà con lui e lo accetterà anche come garante. Poi quanto vale la garanzia di Papa Francesco è un altro discorso. E un'altra è la Merkel. La Merkel perché per molto tempo con Putin hanno lavorato, hanno un rapporto, diciamo, di, non dico amicizie, però un rapporto molto corretto umano. Si conoscono. E già diverse volte Merkel ha dimostrato anche la sua prontezza di comprendere le ragioni della Russia. Cioè lei più volte ha detto guardate che non si può così bruscamente andare contro gli interessi della Russia. Russia hanno le loro ragioni e dobbiamo almeno tentare di comprenderle. Per questo motivo io dicevo questi due nomi. Adesso su The Hill, cioè dopo due anni, in pratica quasi due anni, un sacco, centinaia di migliaia di morti, il paese Ucraina demolito, russi che hanno preso i territori e prenderanno gli altri. Adesso questa è solo questione di tempo, prenderanno gli altri, vedrete. Il totale collasso dell'Ucraina da tutti i punti di vista, militare, economico, civile, sociale, culturale, cioè paese annientato, guidato da un pagliaccio, cocainomane, che fa le leggi veramente da dittatore nazifascista, fa le cose allucinanti, cioè la gente che viene catturata per strada, picchiata, ammanettata, portata a peso come se fossero animali selvatici per essere mandata in prima linea a morire, crepare con la faccia nel fango per gli interessi di questo imbicille qua. In questa situazione terribile, l'Ucraina va verso totale collasso, anzi, è già collassata, va verso la desgregazione completa. E il mondo occidentale partorisce, inizia a cambiare la linea di narrazione, inizia a cambiare la linea di discussione, perché ormai capiscono che la guerra non è andata bene, la Nato è indebolita, mancano le munizioni, hanno sbagliato molte cose, i metodi della Nato sul campo non sono così funzionanti come si credeva, i mezzi militari della Nato non sono così tecnologicamente superiori ai russi come si credeva, i russi bruciano Leopard, i russi bruciano Bradley, i russi bruciano Challenger, i russi bruciano tutti i sistemi di obbicissimo venti che ci sono, i russi hanno superiorità nell'utilizzo dei missili, dell'aviazione, dei droni, la Nato non sa cosa fare. C'è la minaccia, adesso stanno sponsorizzando la minaccia della Russia, dicono che la Russia vuole invadere l'Europa. E in tutto questo, cosa pubblica The Hill e cosa dice Bruce Danton, il professore presso Vermont State University? Lui dice che attualmente è necessario interpellare Angela Merkel, lui fa questo nome, dice l'unica persona che oggi l'Occidente può schierare come garante di una trattativa equa con Putin è Angela Merkel. E lui dice che se noi occidentali veramente vogliamo fermare quella carneficina, mettere un punto su quella che è la situazione ucraina, chiuderla in tale modo che questa non ci danneggi più, l'unica cosa che possiamo fare è interpellare Angela Merkel e farla parlare con Putin. Angela, per favore, vieni, parla con tuo amico Vladimir, porta lì due berrette tedesche che piacciono a lui, che le porti sempre, stesso Putin dice che quando Angela Merkel viene a trovarlo in Russia, sempre porta per lui un paio di bottiglie di birra che a Putin piace, a lui questa cosa molto apprezza. quindi vai lì, gli porti queste due berrette, le mettete nel cremlino, parlerete e magari troverete qualche soluzione. Questo in grande linee dice il professore Dayton. Sapete amici, io penso che in questo momento il professore Dayton ha ragione, sicuramente, il professore Dayton ha ragione, io ho letto il suo articolo, l'ho letto due volte, bisogna dire, perché volevo comprendere molto meglio alcuni aspetti, perché lui lì nell'articolo anche parla della capacità della Merkel di rappresentare certi interessi attuali della politica attuale dell'Unione Europea, ma quando lui parla Dayton ovviamente è uno statunitense, quando statunitense parla degli interessi dell'Unione Europea è sottolineato che interessi dell'Unione Europea sono l'interesse degli Stati Uniti d'America. Questo si legge, si capisce, è chiaro, perché non è che l'articolo scrive un putiniano, l'articolo scrive un professore degli Stati Uniti. E sono momenti molto importanti, io vi invito comunque se vi interessa di leggere questo articolo, l'ho tradotto, l'ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione a questo video. E io ho letto bene questa cosa, è unica cosa che io ho compreso è che l'Occidente, giornalisti, intellettuali, esperti, professori e anche professore Dayton, non hanno capito ancora una cosa fondamentale, che attualmente i russi non sono interessati ai negoziati. L'Occidente per qualche motivo pensa che loro hanno una specie di un sacro diritto di essere rispettati, di essere trattati da padroni a prescindere da qualsiasi cosa, anche quando perdono, con loro tutti devono comunicare, parlare e rivolgersi come a una forza superiore. Cioè, gli occidentali non hanno ancora compreso che dopo aver preso le bastonate in Ucraina, loro in Russia sono visti come una forza che ha perso la guerra. E nessuno in Russia è interessato veramente sedersi a tavolo dei negoziati con persone che hanno queste idee di se stessi e queste idee di propulsione di se stessi nel mondo. E Putin lo ha detto già diverse volte e lo ha detto esplicitamente, lo ha detto se ci volete trattare come i sudditi con superiorità dimenticate qualsiasi possibilità di dialogo con la Russia. La Russia è un paese che rispetta se stesso, esige rispetto dagli altri, capace di rispettare gli altri. Quando si dà una parola la Russia questa parola la mantiene se gli altri mantengono la loro parola e rispettano la Russia. Ma se ci volete trattare come i sudditi vedete trattate male o non trattate proprio in nessun modo. Vi ignoriamo. Continueremo a fare i nostri progetti facendo finta che voi non esistete. Io penso che all'articolo di professor Dayton manca proprio questo aspetto. Aspetto di valutazione della prontezza della Russia a certe trattative soprattutto in questo periodo in questa fase della guerra. Comunque è sempre un articolo interessante sempre una cosa importantissima perché se uno scienziato di questo livello ha anche in ritardo attirato fuori il nome di Angela Merkel vuol dire che io due anni fa non è che sbagliavo quindi dal punto di vista mio personale io sono contento e poi è importante questo articolo proprio perché attualmente l'ennesima conferma che il mondo occidentale si trova in una difficoltà tale da dover ritornare a pensare al dialogo quello che ad esempio vi ricordo ha rifiutato dall'inizio c'era possibilità di instaurare dialogo e fare trattative i russi hanno chiesto i russi hanno organizzato le trattative ben due volte prima volta con aiuto del presidente belorusso quando Zelensky fu costretto di andare a incontrare non Zelensky la sua delegazione andare a incontrare delegazione russa e seconda volta con aiuto dei turchi quando si faceva l'accordo sul grano anche lì c'è stata una mezza possibilità di ampliare la trattativa e trasformare la trattativa sul grano anche farla diventare un trattativo di cessate fuoco di scambio di prigionieri di formazione di una linea di sicurezza gestita da una terza forza di pace si poteva congelare questo conflitto non ha voluto all'Occidente e adesso l'Occidente dopo aver preso delle bastonate dai russi parla della trattativa ma a mio avviso sono già i russi che non vorranno per nessun motivo di fare le trattative con l'Occidente vedremo comunque amici cosa succederà la geopolitica è una è un ambiente dove cambiamenti avvengono sempre spesso anche imprevedibili comunque per avere un minimo di conoscenza per avere gli occhi aperti bisogna informarsi costantemente selezionare tantissime informazioni infatti io quando pubblico le cose le articoli materiale sul mio canale privato telegram li pubblico proprio con questo criterio dare dei messaggi ai miei abbonati di seguire certe linee di informazione per avere una visione obiettiva e completa di ciò che sta accadendo al mondo perché a volte ci sono delle notizie dei video articoli su vari giornali interviste le opinioni di vari specialisti che possono completare una visione e possono suggerire a noi di creare una nostra opinione molto più ricca molto più realistica molto più rispettosa verso quello che è la realtà oggettiva quindi se volete seguire questo percorso io vi invito di abbonarvi al mio canale privato telegram se volete sostenermi qua su youtube vi invito di iscrivervi al mio canale youtube di commentare i miei video di condividere i miei video con i vostri amici inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio si tratta di un libro che racconta le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questo argomento leggetelo fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene